Fa discutere la proposta condivisa dal centro-sinistra di utilizzare una parte del fondo Card Carburanti 2012 per salvare Potenza dal commissariamento. Il sindaco di Vigiano, a Medio Cicala, lo dice apertamente, smascherando il disegno politico che ha la base. Questo, per il primo cittadino della capitale del petrolio, non è un aiuto a Potenza e ai potentini, ma è l'ancora di salvataggio di un vecchio sistema politico istituzionale che ha fossato il comune di Potenza e non solo. Se perseguiamo questa strada rischiamo di entrare in un circolo vizioso dove la Basilicata rischia di impantanarsi. E' ora di voltare pagina e farlo in maniera seria. E' forte poi il disappunto verso chi ne fa una questione di città che erogano servizi sovraccomunali, come appunto Potenza. Fa riflettere e sorridere, dice Cicala, quando qualcuno fonda questo gettito di milioni di euro a favore del comune di Potenza sulla base dei servizi che offre l'intera comunità regionale e dei tanti pendolari che ospita ogni giorno il capoluogo. Noi della periferia vorremmo tanto essere meno pendolari ed avere più servizi dislocati sui territori. Il discorso scivola poi sulla risorsa dell'oro nero, tra potenzialità e ricchezza, ma anche prezzo ambientale. Cicala e netto, il Consiglio Comunale di Potenza all'unanimità ha votato per il diniego assoluto all'esplorazione per la ricerca di gas e petrolio all'interno del territorio comunale. Come dire, benefici e royalty sono ben accette, ma che si trivelli in casa d'altri.